La sera giochiamo con un 4-4-3, Lorenzo Reali lo mettiamo sulla destra e invece Banfi gioca a sinistra e in centrale mettiamo Mazzacchara. Ringraziamo Luigi Salmo Iraghi, SES Marketing Director Sud Europa UKI. Era uno scherzo? No, no. Stiamo trovando molto bene, siamo contenti di partecipare alla fiera, soprattutto siamo contenti di vedere tanta bella gente, tanti bei clienti, colleghi, soprattutto perché dopo 18 mesi in casa ci è mancato questo... Oggi a Sbar Building Expo presentiamo quelle che sono le nostre soluzioni per quanto riguarda la connettività sia wireless che cablata. Noi ci proponiamo, anche nelle edizioni precedenti, come un concentratore di soluzioni di infrastruttura di rete e quindi abbiamo sia soluzioni cablate rappresentate dai nostri switch in ambito tradizionale e anche in ambito industriale, quindi quei prodotti che resistono alle temperature a meno 40 e più 75 gradi e le soluzioni wireless rappresentate dal nostro ecosistema Nucleus che si dividono fra Nucleus Cloud e Nucleus Connect. Nucleus Cloud sono le nostre soluzioni totalmente cloud, gestite quindi da un controller in cloud ridondato in tutta Europa da D-Link e quindi i nostri clienti devono solo preoccuparsi dell'acquisto dell'access point, dello switch e della licenza che a bordo gli consente di funzionare e invece quelle che sono le soluzioni connect, ovvero gestite da un controller anch'esse, ma un controller locale che si mette all'interno dell'infrastruttura di rete. Noi riteniamo che Smart Building Expo sia una delle poche fiere dove veramente ne vale la pena partecipare, infatti ogni edizione biennale lo facciamo volentieri e cerchiamo di farlo sempre con uno stand diverso, con dei prodotti nuovi e raccontiamo novità. Quest'anno comunque devo dire che l'affluenza, che poteva effettivamente un attimino spaventarci, vista la situazione attuale di pandemia che stiamo vivendo, devo dire che è assolutamente più che buona, quindi anche per quest'anno siamo contenti di esserci.